Con la macromisura B del Fondo Complementare al PNRR, denominata Rilancia Economica e Sociale, la cui dotazione è di 700 milioni di euro, si finanzieranno il sistema delle imprese e gli investimenti economici e sociali. La missione della misura è volta a migliorare la capacità competitiva dei territori attraverso l'imprenditorialità della popolazione residente, il rafforzamento del tessuto sociale ed economico e lo stimolo all'innovazione produttiva. Se ne è parlato nell'incontro promosso dal sindaco Pierluigi Biondi ricostruire l'economia all'auditorium del parco con tanti relatori. La macromisura prevede submisure come sostegno agli investimenti con 380 milioni di euro, turismo, cultura, sport e inclusione con 180 milioni, valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie con 60 milioni e centri di ricerca per l'innovazione con 80 milioni. Il commissario Sisma 2016 Giovanni Legnini ha fatto un grandissimo lavoro. Nelle prossime settimane saranno pronti i bandi. Nelle prossime settimane porterò in cabina di coordinamento i testi di questi bandi che possono rappresentare un'opportunità straordinaria per questi territori. Bisogna spendere bene nei tempi che sono molto stringenti, fissati dal Ministero dell'Economia. Lo faremo con il sostegno delle formazioni sociali, delle organizzazioni, delle imprese, ma lo faremo anche avendo molta cura per questo modello di governanza che il legislatore e il Parlamento hanno introdotto, multilivello. Il governo centrale, che mi onoro di rappresentare, le regioni, i comuni. Questa è una prima giornata, naturalmente noi già abbiamo avuto confronti con gli ordini, con le categorie, oggi lo faremo anche con le parti sociali, con i sindacati. L'obiettivo è quello di spendere nel modo migliore possibile queste risorse. Gli interventi sono molto interessanti e vari. Si va da quelli per il riavvio e consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle dei localizzati a quelli per favorire la crescita dimensionale, il passaggio generazionale e la managerializzazione delle piccole e medie imprese. Sono previsti anche interventi per la nascita, sviluppo e consolidamento di iniziative microimprenditoriali e per l'attrazione e rientro di imprenditori. Ci sono gli interventi per lo sviluppo di imprese culturali, creative turistiche, sportive e del terzo settore, ma anche quelli per inclusione, innovazione sociale, rilancio abitativo e interventi dedicati ad aree agricole. I bandi sono pressoché pronti, ha spiegato Romano Benini, che è l'esperto della struttura Sisma 2016. Si tratta di bandi importanti perché sono stati costruiti con i territori. È un intervento che partirà già inizio maggio con una serie di bandi che completeremo entro giugno. Speriamo di riuscire ad avere tempi anche magari più lunghi di gestione, ma quello che per ora ci impone, come dire la legge, ci rende necessaria anche un'azione forte di promozione sul territorio perché dovremo ricevere queste istanze e queste domande entro fine anno per poter concedere poi i finanziamenti.